E al par di me sappiamo... Ben tornato a casa Michele, valeva la pena di fare questo blitz Barcellona-Parma e domani di corso ancora Barcellona? Beh, per una grande serata come questa, sì, valeva la pena, bella serata di musica, di scena, di teatro, di costumi, di colori... Bello, ci siamo divertiti, abbiamo divertito il pubblico, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti, è stata io, poi c'è una bella serata, mi ha ricordato un po' le serate d'opera ad altri tempi, con bis, pubblico contento, tutti che acclamano... Bella serata, sono molto felice. Michele, la tua interpretazione, oltre che stupendamente dal punto di vista vocale, secondo tanti amici hai raggiunto la tua splendida maturità, è stata anche un'interpretazione scenica bellissima, da vera commedia dell'arte, con qualche licenza poetica sul testo. Sì, abbiamo voluto fare qualche scherzetto, qualche... Vabbè, insomma, nella commedia, nell'opera buffa si può fare un po' tutto, pur rimanendo nell'ambito di non cadere mai nel volgare o nel triviale. Queste opere si prestano un po' avendo questi recitativi che non obbligano così tanto alla verticalità della musica, e quindi ci siamo presi qualche licenza divertente.